Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale per proseguire con Ghostrunner Dunque in questo video spero di terminare il gioco anche perchè così almeno poi possiamo riprendere la serie di Nioh 2 e di Scoutfold Shredded Insanity Poi vi parlerò dopo dei programmi che ho per il canale, sicuramente quando mi arriverà perchè ancora non mi è arrivato Probabilmente registrerò le boss fight di Elder Ring e valuterò una serie ma avanti, ripeto, perchè avanti? Perchè non mi faccio una blind run avendo il canale piccolo piccolo con solo 212 iscritti Cioè se avevo 1000 iscritti ancora ancora l'avrei fatta Comunque chiusa parentesi andiamo a continuare Allora facciamoci il penultimo livello che è la boss fight Che è la cima appunto Tra l'altro sì, l'avevo già registrato questo video e ho dovuto rifarlo perchè è arrivato un mio amico e ho dovuto stoppare il video Allora facciamoci l'aventura Allora il boss da imparare Non è semplice per certi punti di vista È più difficile di Hell La cosa figa però ragazzi È che ci sono i checkpoint Breve pausa mi spiego meglio Hell se tipo gli davate due colpi Riniziavate la boss fight da capo Invece qua ogni volta che date un colpo Al boss se perdete Riprendete da quel punto Ed è un gran pregio credetemi Perché la boss fight è abbastanza difficile Quindi Qua Ma perché Che cazzo sta facendo Ma Ce la fai o Ok Con quei livelli sono proprio fighe Di qua E poi Quello che mi preoccupa ragazzi L'ultimo livello Perché non me l'ha preso Vabbè Non mi ha preso alle due Dicevo Quello che mi preoccupa È l'ultimo livello L'ultimo livello Mamma mia È veramente una merda Mi spiace dirlo Ma è quello che penso Ed è un peccato Perché il gioco Mi è piaciuto Ma L'ultimo livello è bocciato Pronti ragazzi Benissimo Allora c'è stato una fase Un punto della boss fight Dove Pensavo di dover usare la spada Cioè Di dover deflettere uno dei suoi tentacoli Invece no Invece non è così Dovremmo fare una cosa particolare Dobbiamo farla incastrare Praticamente Non so se da qua si vedono Vedete quelle robe azzurre Guardate Dove sto puntando Almeno ve lo faccio vedere subito Quelle casse lì A un certo punto della boss fight Dovremmo far incastrare Il suo Uno dei suoi tentacoli lì Appunto per fargli danno Ok ragazzi Saltate Occhio a questo Occhio a questo Eh vedete Non è proprio facile Qua saltate Attenzione perché c'è da risaltare Ora Posizionatevi qua E schivate All'ultimo All'ultimo però Per farla Intrappolare Per farla incastrare lì E fargli il primo punto ferita Vedete Ok Qualora dovessi perdere ora Occhio all'elettricità Ho appunto il checkpoint Cosa molto positiva Merda Qua basta schivare Quando fa così col tentacolo A breve ci sarà Da andare sopra là Guardate Dobbiamo andare sopra qua Perché l'area Viene tutta elettrificata E quindi Se state sotto Morite Dobbiamo Non dobbiamo fare altro Che andare qua E poi riscendere Merda Eh no Non ce la faccio Saltate Uno Due Forse tre ne fa Tre Eh la prima cosa da fare Ragazzi È studiarsi bene bene Il mucset Merda Ok Ottimo Ottimo Due colpi Andati Occhio Questo qua è pericoloso Vedete Che fa uscire il tentacolo Da terra E quindi è meglio E quindi è meglio usare questo Occhio perché ora Come potete vedere Genera dell'elettricità E quindi qua dovete stare In movimento Vedete Non farvi colpire Ovviamente dal tentacolo Ma tantomeno Dall'elettricità Sì una volta capito Si fa Però Mi raccomando saltate Non fate come ho fatto io Prima che non ho saltato Ora ne fa quattro Fa quattro Colpi Tre E ora fa il quarto Poi l'elettricità Come potete vedere Cambia Si sposta Schivate Ah Ok Ora dovremmo avere Quasi finito Il problema ragazzi È che adesso devo Merda 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 È vero Adesso c'è sta fase qua E dopo in teoria Usa il tentacolo Per colpirvi E noi non dobbiamo Far altro Che farla incastrare Al momento giusto Però Ok Fine Vi assicuro che È tostarella Come boss Fatti Adesso perché la conosco Ma se è la prima volta Che l'affrontate Non sarà facile Portarla a termine Ehmè Adesso Ci tocca Il livello finale Il livello finale Ragazzi non mi piace per niente In primis perché A me di solito Non mi dà fastidio Però a livello visivo È molto fastidioso È in più Ha poco senso Secondo me È un livello di resistenza Praticamente Dove dobbiamo Continuamente saltare Sui muri Fare Cose precise È uno sfracellamento Di palle Ecco diciamocelo Almeno Questo è quello che penso Avrei gradito Molto di più Un finale Così come una boss fight Un livello Come gli altri Piuttosto che Questo livello finale Che andremo a vedere ora È davvero una rottura Di palle Qua E ora dobbiamo saltare Su questo E poi di qua Allora Fin qua Ancora ancora Ci può anche stare Ma ci saranno Dei punti ragazzi Che sono una Gran rottura Di coglioni Ecco Non lo trovo Un livello Affatto divertente Per niente Qua Qua Ecco Già da qua Inizia a cagare il cazzo Il livello ragazzi Qua Vi assicuro Che è una Gran rottura Di coglioni Eh Qua bisogna essere Veloci E precisi Ma Non è affatto Bello Ve lo assicuro A me non piace Qua sopra E ora si riparte Altro giro Altra cosa Come potete vedere Dovete stare qua E calcolarvi tutti i salti Con precisione E così via Era giusto Ma fa niente Non l'ho trovato Affatto Un bel livello Devo essere sincero Ma l'ho trovato Ripeto Una gran rottura Di cazzi Ecco Qua già Questa roba La boccio La boccio Ragazzi Completamente Cioè Questa roba qua Di dover Di dover Di dover schivare Ste cazzo Di cose rosse È una menata Di cazzo Per farvela breve Senza stargli troppo A Cioè Vabbè Mi sono aggrappato E sono stato colpito Dal coso rossa E ogni volta Si riparte da qua Sono due fasi Sono questo pezzo Più un altro pezzo Che vedrete a breve E non è divertente È una rottura Di cazzi A mio parere Davvero una rottura Di cazzi E basta Merda Cioè Guardate qua A parte che Ripeto Secondo me È anche scomodo Proprio da vedere E oltretutto Vedete È una merda Questa roba È una merda Perché è fatta apposta Per farvi perdere Una merda di volta Indipendentemente Dalla vostra Abilità di gioco Cioè È matematico Che si muore Cioè veramente E mi dà fastidio Mi dà fastidio Io devo morire Se un pezzo è difficile Se un pezzo è costruito Difficile Ma fatto bene Questo è fatto col culo Cioè Veramente Sapete che io Non ho peli sulla lingua Non ne voglio avere Dico quello che penso Indipendentemente Poi se la pensate come me O avete un'altra opinione Come è giusto che sia Cioè Veramente Io non capisco Come cazzo si possa fare Una merda del genere Il gioco era tutto bello E no Ci dovevano mettere Sta stronzata Se non mettono Ste stronzate Non sono contenti Ah che palle Che palle Veramente Cioè Non mi diverte Una roba del genere E poi Appunto A maggior ragione Che non mi diverte Non sono motivato A farla E qua Eh vaffanculo No veramente Questa roba È uno schifo È uno schifo Totale Poi se a voi piace Buon per voi A me fa veramente Defecare Non andava messa Una roba del genere Che cazzo Mi significa Niente mi significa È una cosa Fatta apposta Per rompere i coglioni Al giocatore Ah che palle Una cosa Fatta apposta Per rompere il cazzo Punto Poi ripeto Il problema è arrivare in fondo Dai Eh che problema è che Non riesco Non riesco a non incazzarmi Sto pezzo Perché proprio Mi fa cagare Giustamente Vi consiglio di mantenere Una certa calma Per quanto sia Non sia facile Perché altrimenti Se poi vi incazzate È peggio Non riuscite a farlo Cioè veramente Io non so Che cazzo Si sono Che cosa Si sono iniettati Nelle vene Per progettare Una merda del genere Non lo so Non lo so Che cazzo Stavamo pensando Qua adesso pure Sarà una bella Rottura di cazzo E mi spiace Ripeto Parlare così Ma Il gioco Mi è piaciuto Molto Però Appunto Perché mi è piaciuto Molto Merda Dove cazzo Devo andare Ah là Dovevo andare Appunto Perché il gioco Mi è piaciuto Molto Che mi incazzo Quando vedo Certe cose Secondo me Che non hanno Ripeto Né capo Né coda Altrimenti Non mi incazzerei Non ci giocherei Nemmeno Quindi Cioè Qua ho sbagliato qualcosa Cos'è che ho sbagliato Ah Qua non avevo visto Questo Poi è un continuo Giro alla visuale Riposizionarsi Guardate qua Cioè Qua ci sono pure Sti rotture di cazzo Non so se avete visto No Ho sbagliato Ma Qua ci sono pure Sti minchia di cosi A rompere i coglioni Come se già non bastavano Non bastava sto pezzo No Doveva mettere anche Le robe qua rosse Per rompere la minchia Dai Ok Ok Eh proprio Non No Non mi piace Ripeto Una roba Ripeto Vai gradito più Una boss fight finale O un livello Come Quelli che ci hanno abituato In Ghostrunner No Con i nemici E tutto No Sta roba qua Non Non ha né capo né coda Non è lunghissimo Però insomma Trovo che sia Una gran rottura di cazzo Ripeto Qua La musica È bellissima Ma Come ho già letto Le soundtrack del gioco Sono molto belle Ripeto Questo pezzo È piuttosto Discutibile Che palle Poi qua Devo pure aspettare È un peccato Perché ripeto Il gioco mi è piaciuto molto Però quando mettono Ste stronzate Mi girano i coglioni Poi proprio Anche un discorso Di prospettiva qua Che la prospettiva A volte vi fotte Dovete continuare A riposizionare La visuale Voi Cioè No No Veramente Che palle Però Ah Veramente Dai No Pensavo di potermi aggrappare Giustamente Si rifà da qua Dovrebbe essere l'ultimo pezzo Questo La cosa positiva È quella ragazzi Questo dovrebbe essere Ah se non faccio la spinta Ok Dovrebbe essere l'ultimo pezzo E poi dovremmo aver finito No Ho sbagliato In qualche modo Mi sono salvato Però Ripeto È un pezzo Che boh Non so per quale cazzo Di motivo Abbiano deciso Di costruire un livello In questa maniera Poi ok Di trama Quel cazzo che volete Ci può anche stare Però vabbè Ripeto È una grande puttanata A mio parere Poi non è Non lo trovo Un livello soddisfacente Cioè quando l'ho finito Questo livello Non è che ho detto Si che figata No Ho detto Che merda Ma Dove cazzo Devo andare Lì non si capisce Manco dove bisogna andare Che due coglioni Veramente Meno male Veramente che non dura Molto Perché Ripeto qua non so Si saranno Fatti di qualche droga Strana Per progettare Questo livello È l'unica È l'unica Spiegazione Logica Che trovo Perché altrimenti Non so come si possa Aveva progettato Una roba del genere Qua si sono Drogati pesanti E ripeto Non è divertente Non è divertente Poi se per voi è divertente O ben venga Cioè ripeto Io non lo trovo affatto divertente Lo trovo solo Una rottura di cazzi E ripeto E lo ribadisco È un gran peccato Un enorme peccato Ma devo andare là? Dai Qua Ok ci siamo Ah già Manca ancora Sto pezzo Ma qua ci sono pure I buchi È vero Ed è un problema Perché È per questo Non so come cazzo Ho fatto Non chiedetemelo Cioè che palle Veramente Ok ragazzi Fine In cima alla torre Non puoi provare Se ti distruggi Mi Il sistema di cybervoid Sistema Si tratta Non so 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 Cavolo ragazzi Ho una voglia Matta anche Di rigiocare Metal Gear Rising Mi piacerebbe Una bella remastered Su PS5 Pensate quanto sarebbe Bello Ho adorato Quel gioco Secondo me Uno dei migliori Action Degli ultimi 15 anni Almeno Degli ultimi Cybervoid mainframe Will now Shut down Program terminated Ok Qua ho fatto Altro che 15 morti La prima volta che Ho fatto Scusate Vaffanculo Altro che 15 morti Ho fatto Comunque ripeto Il gioco è bello A me è piaciuto Però Alcune cose Ripeto Alcune volte È impreciso Non è sempre così preciso Ve l'ho fatto vedere Nei miei video Ad esempio Quando ci sono i robot Che schivate sotto E a volte vi calcola Che vi ha colpito Anche se non vi ha colpito Alcune hitbox Sono da rivedere Secondo me Però Dubbiamente È un gran bel gioco Divertente Bello Una bella sfida A parte appunto Anche questo livello Che ripeto È uno dei Di quali proprio Che non mi piace C'è questo livello qua Allora Continuiamo Vediamoci il filmatino finale Il mondo Zoi Non l'abbiamo mai vista O sbaglio Durante la nostra avventura Cioè proprio Vederla lei di persona Ah è lei Oh sì Che figo Fine Ma ripeto Il gioco Cazzami Si è bruciato un pixel Datemi un secondo Dicevo Il gioco È Molto bello Veramente molto bello Vorrei farci una recensione A riguardo Tipo Come Quale che ho fatto Di The King of Fighters Valuterò Comunque Possiamo anche Saltare I titoli di coda Nuovo gioco È ora disponibile La modalità hardcore Tutti gli scontri Saranno rivisitati Per rendere le sfide Più impegnative Come se già Non fosse abbastanza difficile Alcuni livelli Avranno una geometria Diversa Questo potrebbe essere Interessante Non lo so Non avendo mai provato La modalità hardcore Inizierai con tutti i potenziamenti E le abilità disponibili I nemici avanzati Saranno presenti Dal primo livello E ne incontrerai Molti di più Ecco Ragazzi La modalità hardcore Io non ve la porterò Perché il mio scopo Era farvi una guida Appunto Sul gioco base Eventualmente Vedete ora È possibile Selezionare la modalità hardcore Ah vorrei farvi vedere Una cosa Se io vi faccio vedere Vedete che bene o male Le skin delle spade Le abbiamo prese quasi tutte No? Avete visto? Forse solo una ne manca Non so se avete notato Ecco Se io vado Ad avviare Avviamo Avviamo questo Mmm Poi solo per farvi vedere Una cosa Allora guardate Vedete Noi abbiamo 18 skin di 36 Sarebbe interessante Capire come sbloccare Le altre Queste qua Ce le avevo già Io penso Che le altre Io credo Che le altre Queste qua Le altre skin Che non posso Appunto Che non ho Probabilmente si sbloccano Facendo la modalità hardcore Potrebbe essere Comunque vedrò Eventualmente La modalità hardcore Al massimo Mi farò una Blindra Io Ed eventualmente Se la volete Vedere Lasciatemelo nei commenti Ok Detto questo ragazzi Ma io Mi fermo qua Avanti Valuterò se acquistare Appunto anche questo Perché comunque Il gioco mi è piaciuto E vorrei giocare appunto Il DLC E qua appunto Usiamo L Questo lo valuto Detto questo Spero che questa serie Di Ghost Rider Vi sia piaciuta E vi possa essere utile Alla prossima